Trasporti Siracusa, domani consegna nuovo treno POP. Domani, domenica 20 dicembre alle 9.30, la presenza del Presidente della Regione Nello Musmesci si terrà alla stazione centrale di Siracusa la consegna dell'ultimo arrivato tra i nuovi treni POP acquistati per rafforzare la flotta della Regione Siciliana. Saranno presenti gli assessori regionali delle infrastrutture Marco Falcone, all'agricoltura Edi Bandiera, il direttore della direzione regionale di Trenitalia Silvio Damaggini, parlamentari e amministratori del territorio. Salgono così a 12 i treni di ultima generazione in servizio sulle tratte Palermo-Messina-Catania-Siracusa sui 43 nuovi convogli voluti nel complesso dal governo Musumeci. Nel progetto della visita a Siracusa il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sempre domani alle 10.30 parteciperà nella chiesa di Santa Lucia al Sepolcro nella zona della borgata Siracusa alla Santa Messa che concluderà i festeggiamenti in onore della patrona del capoluogo Aretuseo. Al termine della celebrazione affinata dall'arcivesco Francesco Lomanto sarà scoperta la tela del caravaggio sul seppellimento di Santa Lucia recentemente restaurata che ritorna nel suo habitat originario.